Ripartire. Questo è l'obiettivo in casa Granata. Dopo la sconfitta di Ancona al Civitelli arriva la Iesina. Nelle Marche si è vista una agnonese in palla e la buona prestazione offerta al cospetto della capolista fa ben sperare sia per questo importante match sia per il finale di stagione che dovrà portare la salvezza diretta. L'ambiente è in carico e voglioso di fare una grande prestazione consapevole che i tre punti darebbero una spinta forse decisiva. L'infermeria è praticamente vuota. Pifano, Patriarche e Petrone saranno sicuramente convocati e quindi Mister Urbano con molta probabilità si affiderà agli stessi undici che hanno sfidato l'Ancona sette giorni fa. In porta ci sarà Biasella. Difesa con Rolli, Antonelli e Sterni, Pifano e Litterio centrali. Centrocampo a tre con Di Lullo, Wade e Ricamato. Trenente offensivo con Esposito, Di Benedetto e uno tra Mancini e Troccoli. Passiamo alla Jesina. I biancorossi allenati da Francesco Bacci sono a quota 32 punti in classifica, sei in più della banda Urbano. Vengono dal pari interno a reti bianche contro la Vispesano e giocano con un classico 4-4-2 dove i punti di forza sono il duo offensivo tra Ini e Pierandrei. Partita quindi complicata per Orlando e Soci, ma una vittoria sarebbe fondamentale in chiave salvezza. Nella partita di andata, giocata al Pacifico Carotti di Iesi, vittoria 2-1 per i marchigiani. L'appuntamento è fissato alle ore 14.30 di domani. A dirigere olimpia agnonese Jesina è stato designato il signor Stefano Fusco di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti di linea Fabio Pappagallo di Molfetta e Marco Di Bello di Barletta. Grazie a tutti.